Sì, sono proprio quest'anno di finito. Questa è la rampa, vedi? Per mediano apre, però c'era un fallo, mischia, a favore, le mettono dentro la mischia. Certo, di solito esce dall'alto verso il centro, dopo non è dentro. Questa è una campanella, ma non è un gioco, non è un gioco, ma non è un gioco. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, no, no, da come con il... Subito, subito! Un amore! Un amore! Subito! Un amore! Subito, subito, subito! Un amore! Un amore! Un amore! Ai ragazzi! Un amore! Un amore! Un amore! Un amore! attenzione la camicia portarla indietro per poterla prendere e poi giocarla per capo per passare erano montati avanti mischia grazie a Genova grazie a Genova grazie a Genova non serrà grazie a Genova anche a Mediano piccino anche grosso batte in duscia cioè per fare la rimessa laterale che la batterai tu Genova vicino alla linea di ritorno addirittura si mi stiamo da l'unico grazie a Genova e per la sera dai Genova dai Genova � точ ah vai ragazzi vai ragazzi vai ragazzi ai miei Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 su. su. a tutti. 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 a tutti.